e rimani in questa spirale, ci rimani per anni, rimani vent'anni, trent'anni, stai sempre tappando una bocca e si apre l'altra e quindi continui sempre a fare i lavori. E quindi quello che accade è che una bocca magari che deve essere, che arriva all'attenzione del medico per un problema, il più delle volte c'ha altri problemi, perché i pazienti non essendo medici e soprattutto poi le malattie della bocca non tutte danno dolore, sintomatologia, danno alcuni segni che possono tranquillamente essere sottovalutati, per esempio che lavi i denti e vedi un po' di sangue nel lavandino, magari quella è una piorrea in stadio avanzato, terminale, però la sottovalutavi, pensavi aver sbattuto con lo spazzolino sulla gengiva, oppure ti mancano i denti, tutti i posteriori, come va con i denti? Tutto a posto, sorridi, si vedono lì davanti e lì c'hai anche una percezione, il lato paziente, di salute della bocca che è diversa da individuo a individuo, cioè quello che si scheggia un dentino, non esce di casa e quindi c'hai anche da prendere in considerazione i fattori sociologici lì, che era considerato prima perdere i denti come normale, l'età, perdi i denti, io avevo nonni tutti quei denti, sono morti, non erano senza i denti, c'è la genetica di base, ci sono i costumi, le cause sociologiche, la prevenzione che non è stata fatta e quindi manca anche l'attenzione a certi problemi, poi quando vai dal dentista sai già che quello ti deve fregare, perché ti deve fregare? Perché è lui che si prende i soldi, è lo stesso che ti dice quello che hai, il problema, che è il conflitto di interessi di cui da anni parliamo, che chi decide ciò di cui hai bisogno è quello che si prende poi i soldi, non è normale questo, cioè se io vado da un medico e con una mano mi tocca la tasca, dentro la tasca e mi dice nel frattempo che cosa ho, è strano, perdo fiducia, almeno penso aspetta lo prendo con le pinze quello che mi dice o vado e sento un altro parere, c'è questa sfiducia in generale nella classe medica che deriva dal fatto non che i medici non sono bravi, ma il fatto che vengono pagati dalla direzione sbagliata, invece che da sopra, dallo Stato, sono pagati dal malato, quindi la malattia conviene, oggi lo dicevamo con alcuni pazienti che l'emergenza conviene sempre, perché ci fa i soldi con l'emergenza, spazzatura in strada a go go, non si risolve, terapie intensive che mancano, mancheranno sempre, se no alla fine non vai a stanziare sempre fondi, 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 che poi scompaiono, e questo è un sistema, è un modo di ragionare sbagliato, che porta poi chiaramente a quella incomprensione, ma al prezzo uguale che farlo in Germania, farlo da voi.